Hernanes, 30 secondi, Hernanes, c'è con Co, Matusala, se l'appoggio, Rata, Rata incredibile, proprio lui, incredibile, Eroia scaccia l'incubo, la lancia finalmente, ancora 18esima, lo poteva mancare lui. Bellissima questa azione, la palla giocata sempre di prima, sulle spine allo sere del campo, Lui è micidiale per quanto è freddo, incredibile, ha avuto la freddezza del controllo, sesta gol per lui in questa stagione, proprio lui, in dubbio fino all'ultimo.